In destra 4 lunga tronchi sull'interno, destra 6 in destra 4 Fai possibile salto cancello, tornante sinistro Salto 100, attenzione al centro salto, poi destra semilunga, succunetto all'interno 80 Destra 6 all'interno 80 Sinistra 6 all'interno crinale 100, destra 6 semilunga e attenzione destra 2 insidiosa Sinistra 2 su crinale, appostamento crinale, attenzione teni la destra su crinale indicatore Sinistra 3 lunga tronchi sull'interno Sinistra 6, destra 6 80 Attenzione sinistra 6 crinale verso destra 3 lunga, non tagliare 70 Attenzione destra 6 all'interno crinale In sinistra 6 Su affossamento centro Sinistra 5 semilunga all'interno 170 su crinale Attenzione crinale, poi sinistra 5 e destra 4 lunga Su cunetta 150 Destra 6 e sinistra 6 E destra 5 lunga, tieni la destra su crinale 60 Destra 6 60 Tieni la sinistra su crinale e destra 6 continua per... Aetta sinistra 4 Fin destra 4 Sinistra 4 Aetta sinistra 4 Questa sinistra 4 In destra 4 Best Grazie a tutti